È pronto? Sono pronto a dimenticare l'altrove una volta per tutte. La mia mente è stata annebbiata negli ultimi anni. Volevo solo essere un buon padre. Dalton. Mamma. Renee. Hai provato a chiedere aiuto? No, sto cercando di guardare avanti. Perché non accompagni Dalton al college? Hai ancora qualche settimana prima di cominciare. È solo un'idea per riavvicinarvi. È stata dura tra voi due. L'equilibrio tra luce e oscurità è ciò che cerchiamo. Vai alla facoltà di arte? Sì, vai lì anche tu. Sì. Disegnate un'esperienza che vi definisce. Quando avevo dieci anni, sono entrato in coma. Ma non ricordo neanche di essermi ammalato. Scavate a fondo nella vostra memoria e vediamo quale luce riuscirete a trovare. Vedo delle cose assurde. Credo che questi disegni siano degli indizi sul mio passato. Non sai molte cose e io ero spaventata a dirti la verità. La nostra famiglia ha tanti segreti. Hanno cancellato i nostri ricordi. Ma sento ancora qualcosa che ci segue. C'è solo un modo per scoprirlo. Sento che mi sto avvicinando a qualcosa. o qualcosa si sta avvicinando a me. Aiutami. London! Quando si risvegliano i morti, più vai lontano e più rischioso diventa il tuo viaggio. Ficcialo.